Va bene, devo ammettere che la scorsa volta ho dimenticato di inserire una cosa nel video e qualcuno giustamente me l'ha fatto notare, quindi mi ripropongo in questo video di rimediare immediatamente. Cosa mi sono scordato? Mi sono scordato di parlare di una cosa fondamentale che è la gestione degli account utente. Eh sì, perché in Windows tutti quanti siamo abituati ad utilizzare solo l'account amministrativo e questo ci può esporre a dei gravissimi problemi nel momento in cui contraiamo un virus. Cerco di spiegarlo a parole ma poi lo vedremo anche nei fatti che cosa significa? Significa che noi normalmente accediamo con un account a Windows che ci consente di fare qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa significa ad esempio installare programmi ma quando noi contraiamo un virus ad esempio attraverso la posta elettronica questo non fa altro che installarsi nel computer ed usa proprio il nostro account per farlo perché siamo noi in quel momento ad aprire la posta elettronica e ad aprire magari l'allegato. Quindi che cosa si può fare? La cosa più semplice e che poi la tecnica che si usa anche in Linux per proteggere così tanto il sistema operativo è quella di creare un account amministrativo che può fare tutto quanto ma di non usarlo, di usare sempre il nostro account normale. Ti garantisco che è più difficile a dirlo che non a farlo. Vediamolo insieme. Ti senti pronto? Iniziamo. Ed eccoci qui. Ho appena acceso il mio computer. Il mio account si chiama Vito ed è un account amministrativo quindi che ha tutti i privilegi. Può fare qualsiasi cosa su questo computer e mi viene richiesta la password per entrare. Digito la password ed eccoci qui. Siamo pronti per lavorare. Poniamo di voler installare un qualsiasi programma, non importa quale. Apro il browser e vado a scaricare per esempio TeamViewer che, detto per inciso, è un software che consente il controllo remoto della macchina, quindi del nostro computer. Tra virgolette potremmo definirlo un software relativamente pericoloso. Ne scarico una versione qualsiasi. Ecco fatto. E andiamo a vedere che cosa succede quando noi cerchiamo di installare un qualsiasi software sul nostro computer. Attenzione, perché sto facendo questo esempio? Perché questa è la stessa cosa che succede quando invece scarichiamo ad esempio un allegato infetto oppure un programma infetto. Vediamo quali sono le procedure di sicurezza che il computer mette in atto in questi casi quando usiamo già un account amministrativo. Facciamo un clic sul file appena scaricato per lanciarlo. Chiudiamo il browser e nel momento in cui andremo a fare clic sul pulsante accetta succederà questo. Questa è una schermata che abbiamo visto tante volte in passato e su cui abbiamo sempre fatto clic sul pulsante sì per accettare le modifiche al nostro dispositivo. Ma attenzione, questa schermata qui che si chiama controllo dell'account utente è l'unico strumento che si frappone tra noi e l'installazione di un software malevolo messoci a disposizione da Windows. Quindi che cosa succede? Che alcuni virus e alcuni malware sono in grado di bypassare questo controllo se noi utilizziamo come io sto usando in questo momento un account amministrativo e quindi di installarsi in maniera completamente silente sul nostro computer. In questo caso faccio clic su no perché non mi interessa installare il file ma quello che mi interessa è farti vedere come puoi ottenere una maggior protezione in questo senso in modo che nessun programma si possa installare sul tuo computer a tua insaputa. La prima cosa che andremo a fare è cliccare sul tasto start e andare a fare un clic con il pulsante destro su questa icona che a fianco riporta il nostro nome utente. Quindi facciamo clic destro e scegliamo l'opzione modifica impostazioni account. Una volta aperta andremo a cliccare su famiglia e altri utenti. Attenzione questa impostazione è leggermente diversa in Windows 11 ma tra un attimo ti mostrerò come fare la stessa cosa anche su Windows 11 quindi niente paura. Famiglia e altri utenti e andiamo ad aggiungere un altro utente a questo pc. Se ti viene proposto di creare un account Microsoft scegli non ho le informazioni di accesso di questa persona e clicca su aggiungi un utente senza account Microsoft. Scegliamo un nome utente per il nostro amministratore che ovviamente deve essere diverso dal nome utente principale. Io lo chiamerò amministratore. E scegliamo una password. Nel campo sotto dovremo ripetere la password e quindi dovremo rispondere per tre volte alle domande di sicurezza. fatto questo clicchiamo su avanti ed ecco qui il nostro account che abbiamo chiamato amministratore ma a dispetto del suo nome non ha ancora i privilegi amministrativi. Quello che vogliamo fare è trasferire a questo account i privilegi amministrativi e toglierli invece al nostro account principale. Per fare questo clicchiamo su amministratore, clicchiamo su cambia tipo di account e anziché utente standard lo rendiamo amministratore e clicchiamo su ok. Fatto questo chiudiamo la finestra, disconnettiamoci. Per disconnetterci ci basterà fare un clic nuovamente sul nostro account utente e scegliere la voce disconnetti e come vedi questa volta in basso ci vengono proposti due account. Entriamo con l'account appena creato, quindi amministratore, digitiamo la password, attendiamo che venga creato l'account utente, ci vorranno solamente pochi minuti e a questo punto rispondiamo alle domande che ci vengono poste. Io scelgo no per tutte quante. Questa è l'ultima. Benissimo, siamo nel nostro account di amministratore, come puoi vedere. cosa dobbiamo fare a questo punto? Dobbiamo andare nuovamente a fare un clic destro su amministratore, scegliere modifica impostazioni account, scegliere famiglia e altri utenti, selezionare quello che è l'account principale che noi andiamo ad utilizzare, cliccare su cambia tipo di account e farlo diventare un utente standard. Fatto questo possiamo chiudere, tornare giù sullo start, cliccare col pulsante destro e scegliere nuovamente disconnetti per tornare a connetterci con il nostro account principale, quindi non amministratore ma vito nel mio caso. Digitiamo la password e andiamo a vedere che cosa succederà nel momento in cui tenteremo di installare qualche programma non essendo amministratori. Andiamo nella nostra cartella download dove ci sono un paio di programmi, proviamo a fare doppio clic come se volessimo installare Malwarebytes che peraltro è già installato su questa macchina e vediamo che ci viene richiesta la password di amministratore. Attenzione, questa è una cosa che naturalmente i virus non possono fare, quindi nel momento in cui volessero installare qualche programma potenzialmente dannoso per il nostro computer o compiere qualsiasi operazione che potrebbe in qualche modo danneggiarci, gli verrà richiesta la password che naturalmente non conoscono e non hanno alcun modo per inserire. Se vogliamo procedere con l'installazione ci basta digitare manualmente la nostra password e successivamente fare clic su sì come facciamo sempre e vediamo che la procedura parte e si avvia in automatico. Chiudiamo senza bisogno di installare nuovamente Malwarebytes e andiamo a fare la stessa prova con Veracrypt per esempio. Doppio clic e come vedi ci viene richiesto di inserire la password e autorizzare qualsiasi operazione potenzialmente pericolosa sul nostro computer. E prima di alcune note importanti vediamo come fare la stessa operazione su Windows 11. Clicchiamo sul pulsante start e clicchiamo su impostazioni. Una volta su impostazioni clicchiamo su account sul lato sinistro e scendiamo fino alla voce altri utenti. Facciamoci clic e clicchiamo su aggiungi account. Anche in questo caso clicchiamo su non ho le informazioni di accesso di questa persona e scegliamo aggiungi un utente senza un account Microsoft. Digitiamo il nome utente, anche in questo caso io sceglierò amministratore e scegliamo la sua password. Anche questa volta scegliamo le tre domande sulla sicurezza e diamo le nostre risposte. Queste risposte naturalmente ci serviranno se dovessimo smarrire la password per poterla recuperare. Clicchiamo su avanti quello che dobbiamo fare adesso è promuoverlo quindi clicchiamo sulla frecciolina scegliamo cambia tipo di account e promuoviamo questo account al ruolo di amministratore clicchiamo su ok chiudiamo la finestra clicchiamo sul pulsante start andiamo a disconnettere il nostro utente e rientriamo scegliendo questa volta il nostro profilo amministratore digitiamo la password e attendiamo la creazione dell'account utente anche in questo caso rispondiamo alle domande io scelgo sempre no per tutte quante rientriamo nuovamente sulle impostazioni torniamo su account prendiamo fino alla voce altri utenti selezioniamo il nostro account principale scegliamo cambia tipo di account e riduciamo i privilegi da amministratore a utente standard clicchiamo su ok chiudiamo e il gioco è fatto e con questa piccola doverosa appendice allo scorso video relativo alla sicurezza di Windows andiamo per il momento a completare questo capitolo la procedura che abbiamo visto insieme oggi è una delle best practice in assoluto più raccomandate per la protezione del computer infatti indipendentemente dal sistema operativo che tu usi Windows, che tu usi Linux o che usi Mac OS è sempre consigliatissimo non utilizzare un utente che abbia privilegi di amministratore ricordati che se avrai bisogno di lanciare qualche file con privilegi amministrativi ti basterà anziché farci doppio clic fare un clic con il pulsante destro e scegliere la voce esegui come amministratore naturalmente ti verrà richiesto di inserire la password di amministratore per poter lanciare quel file è un piccolo sforzo che facciamo ma serve a rendere molto 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 più sicuri i nostri computer detto questo, come sempre non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima